Ciao Al, sono Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli. Comunico con te per la prima volta a una telecamera per manifestare il mio grandissimo apprezzamento per la tua storia di attore, per quello che hai fatto anche nell'impegno sociale e civile, in tanti film, da Serpico, Il Padrino, Scarface, che è diventato per i criminali anche un modo da seguire nelle ville della Camorra e che oggi invece lo Stato ha ripreso per farne dei beni confiscati destinati alla società. Io sono un tuo grande fan e come me tanti napoletani. Come sai Napoli è una città di una grandissima cultura musicale, teatrale, piena di chiese. Io oltre a essere il sindaco di Napoli sono il presidente del Teatro San Carlo, uno dei più grandi e storici teatri del mondo, risale al 1737. Il teatro è nelle mie vene, nella storia e nei cuori dei napoletani. Oggi però dalla mia scrivania di sindaco di una delle più belle città del mondo ti invito a presentare in questa città il tuo ultimo capolavoro, Wild Salome. Vero, tu giri il mondo, sei famoso in tutto il mondo, ma vivere le emozioni di questa città impregnata di cultura, di arte, di contaminazioni di storie, popoli, una città di mare che guarda con il cuore nel sud del mondo e con gli occhi verso il nord. Una città di incroci, una città che ha fortemente sostenuto l'Iknos Network HD, appunto come comunicazione cibernetica nel mondo. Sarei veramente onorato, lieto e felice se tu volessi venire qui nei prossimi mesi a Napoli a presentare il tuo film, avrai un'accoglienza degna di Al Pacino. Ciao Al.